buonasera ben ritrovati nuova puntata di angoli velocemente vi ricordo la mail per comunicare con la redazione del programma angoli chiocciola espansione tv punto it mi raccomando utilizzatela e allora vado a presentare subito gli ospiti di questa prima parte della puntata abbiamo con noi davide della nina curatore del soggetto e delle interviste del documentario alessandro ben regista del documentario buonasera buonasera ho detto che andiamo un po veloci perché come dire una tematica densa di argomenti ovviamente non possiamo affrontarli tutti ma la notizia principale è che questo documentario che avete curato va in onda domani sera qua su espansione tv alle ore 23 e 30 quindi non perdetevelo noi intanto vediamo un po quello che è successo nel backstage del girato come è nata l'idea di un documentario a tematica paranormale perché di questo stiamo parlando dunque nasce per passione personale di entrambi praticamente è una passione comune paragonabile alla passione che può avere anche mio vicino di casa quindi non è che siamo esperti non facciamo questo di mestiere abbiamo fatto tutta una serie di documentari e questo è incentrato sul paranormale doveva essere in realtà una serie di tre di fatti il titolo il titolo principale è all'ombra di Torino poi sottotitolo in questo caso è il maniero infestato ce ne dovevano essere anche altri due però poi per mancanza di tempo ma li faremo più avanti sicuramente per mancanza di tempo e di spazi per poterci lavorare non abbiamo ancora potuto realizzarli passione personale per il mistero il piacere della scoperta di cose ignote che non si possono spiegare non sono facilmente spiegabili la ricerca ma sempre legata ripeto a mera passione quindi anche un po per gioco per sfida ok io direi prima di procedere appunto con indagare come avete poi realizzato concretamente il documentario ci vediamo il trailer così poi torniamo in studio e lo commentiamo assieme siamo sui terreni del maniero in frazione la rotta nel comune di Moncalieri dopo aver svoltato a destra in direzione Tetti Sapini vide nel campo confinante con il maniero e la provinciale una forma luminosa muoversi tra la vegetazione questo conferma la teoria che il maniero sia stato costruito in un esatto punto in grado di conservare e sviluppare alcune energie legate alla fenomenologia paranormale all'oggi il templare è presente quante volte abbiamo letto sentito dire che mentre il corpo di chi muore di morte violenta cesserà di vivere la sua anima tormentata avrà vita eterna e non abbandonerà mai i luoghi in cui il corpo ha vissuto Gli ingredienti della paura ci sono tutti già si intuiscono in questi 50 secondi di trailer però il punto è che la vicenda è reale voi siete andati personalmente nelle vicinanze del maniero avete cercato in prima persona di creare un rapporto con i vicini di casa per capire effettivamente che cosa vi avrebbero raccontato sul fenomeno allora com'è andata anche lì? Alex? Beh in questo caso qui sì è più una ricerca questa qua è una ricerca fatta più da lui nel senso di andare a trovare qualcuno che fosse in grado di darci del materiale quasi personale quindi proprio qualcosa di diretto di qualcosa di vissuto e proprio in questo caso qua passando di porta in porta voce in voce si è arrivati a questo personaggio che aveva un suo video girato con un telefonino perché poi anche il formato che è arrivato insomma non era di gran qualità perciò probabilmente è veramente autentico come cosa ovviamente noi non sappiamo spiegare è stato messo all'interno così com'è come dico appunto perché il formato è particolare sicuramente da un telefonino come lui ci ha detto di quello abbiamo la certezza posso avere e si vede appunto questa particolare luce che percorre un piccolo tragitto lungo una delle facciate del maniero di notte e appunto ci è stato raccontato lui aveva dei dubbi su che cosa poteva essere se l'era tenuto lui diciamo come cosa ma in questo caso se non veniva menzionato ce l'avrebbe dato a disposizione da mettere sul documentario e quindi abbiamo avuto questa cosa un po' particolare altri adesso non so se parlando è uscito fuori qualcosa di più però lui praticamente ci ha fatto mettere praticamente per iscritto abbiamo proprio dovuto fare una specie chiamiamola di contratto di liberatori al contrario in cui noi gli garantivamo che il suo nome non sarebbe mai stato fuori perché ha paura di essere poi preso in giro insomma perché sappiamo nel momento in cui tu racconti di aver visto un fantasma un UFO, un mostro un qualcosa di strano un fenomeno strano non tutti la prendono per il verso giusto la prima idea che ti fai di questa persona è che non abbia tutte le rotelle a posto eccetera e certo perché poi il punto è anche quello voi siete capitati vi siete imbattuti in questa storia che poteva benissimo rivelarsi una bufala però poi quando siete andati a cercare i vicini di casa qualche notizia in più l'avete raccolta quindi anche la gente seppur con reticenza qualcosa di strano lo ha notato assolutamente sì sono venute fuori diverse storie diverse cose molte le apprenderete appunto domani sera vedendo appunto il documentario completo tra cui per esempio siamo riusciti a parlare con un signore che sarebbe il custode il maniero adesso non è più abitato quindi non è visitabile è una proprietà privata praticamente c'è un signore un addetto che poi non è altro che un contadino che vive in una zona limitrofa che si occupa di mantenere puliti i campi davanti al maniera addirittura c'è un piccolo bosco lui racconta che è una mattina d'inverno ed è quello che potete leggere poi è un mini racconto scritto al termine del documentario poco prima dei titoli ci sono questi due brevi racconti che sono i resoconti le testimonianze di due diverse persone uno è un restauratore che aveva lavorato con degli operai alla messa in opera di alcune stanze al rifacimento di alcune stanze interne ed uno è il resoconto di questo contadino che dice che una mattina si era recato molto presto per pulire il boschetto e pulire il fossato che c'è davanti il classico fossato che troviamo davanti ai manieri e ai castelli in cui correano un corso d'acqua col ponte per pulirlo dalle sterpaie ha sentito piangere un bambino o una bambina ha sentito questo pianto ad intervalli a un certo punto ha pensato che fossero rumori magari degli alberi o siccome ci passa la tangenziale vicino si fosse fermata un'auto nei pressi per far fare magari una sosta per il bambino e invece no si è reso conto che arrivava dal boschetto da questo boschetto ha detto ma qui avranno abbandonato un bambino piccolo magari qualcuno ha abbandonato un bambino se fatto largo tra le sterpaglie tra gli alberi e man mano che si avvicinava il pianto andava a diminuire finché non è sparito ha detto che non è stata una bella cosa perché lui non crede assolutamente a queste cose non ci ha mai neanche minimamente pensato ha sempre pensato che fossero semplici credenze popolari però da lì si è dovuto un po' ricredere ecco ecco ma voi anche con questa esperienza invece qual è la vostra posizione voi ci credete a questi fenomeni paranormali? in parte sì in parte no nel senso che io diciamo sono un po' entrato nel gioco diciamo di questa cosa qua attraverso un EVP che sarebbero questi registratori classici registratori per registrare suoni cose del genere e diciamo che in quell'ambiente lì ho riscontrato tantissime cose strane di cui una collezione di cose molto particolari quasi inspiegabili che anche io non è che mi so spiegare perché alcune cose sono reali ma quasi impossibile che in quel momento sia accaduto sentito quel suono quella cosa fatta in certo modo soprattutto per le condizioni eppure ci sono ma tipo qualche aneddoto dai daccelo perché poi il documentario ovviamente ce lo vediamo quindi ormai non possiamo perderlo ci sono delle voci ma io ho avuto modo di registrare dei canti particolari gatti ho avuto una cosa un'esperienza da poco che non ho registrato da poco di un gatto in casa o dei gatti ma in quel momento gatti non c'erano o la registrazione proprio di un gatto vicino a me che mi agola in verità non c'era però ho cominciato la registrazione perché è successo un qualche cosa che mi ha portato a tentare questa cosa appunto per gioco perché conoscendo appunto come dicevo tipo i pit che sono questi ragazzi che vanno in giro e fanno questo allora così mi sono interessato come dico per gioco e quindi ho cominciato a fare questo tipo di i pit spieghiamolo per inciso e i telespettatori sono un gruppo di persone che va proprio a cercare la presenza di entità di fantasmi insomma chiamiamoli lo stanca esatto fanno delle indagini ovviamente molto più profonde perché hanno comunque apparecchiature poi man mano adesso si stanno proprio evolvendo sempre di più comunque quello che è la tecnologia nella ricerca dei ghost hunter quindi cose del genere comunque come dico qualche cosa di strano viene fuori per quanto io mi occupo più di video di video non ho praticamente nulla posso dire pochissime cose qualcosa di strano è successo anche lì ma poco mentre di audio quello sì posso garantire che qualcosa succede ma durante le riprese è capitato qualcosa mentre eravate lì poi lo vediamo lo vedrete meglio domani sera molte riprese sono notturne peraltro era inverno quindi si vede anche belli coperti al freddo però non è che c'era nebbia anzi avevate una visuale perfetta assolutamente sì faceva freddo però le condizioni atmosferiche erano favorevoli per quel che riguarda il video è successo semplicemente questo ed è successo a me eravamo in quattro abbiamo le riprese in notturna sono durate tipo dalle 23.30 fino alle 2.30 del mattino pieno inverno e c'eravamo solo noi quattro siamo andati in pochi proprio per evitare confusione possibilità di inquinare l'audio il video e quant'altro lui con i due componenti dell'URG che sono i ghost hunter della situazione praticamente erano sul retro praticamente quasi nella posizione del fantasma dello spettro dell'abate che è quello che abbiamo visto prima nel breve trailer quello è lo spettro dell'abate erano in quella zona lì per cercare di capire com'era la struttura le mura di notte con le varie apparecchiature termiche quant'altro per rilevare qualcosa e io ero da solo vicino alle auto sul fronte del maniero quindi diciamo a 100 metri di distanza e a un certo punto mi chiamano mi avvicinano mi dicono vai a prendere un'altra torcia in auto perché avremo bisogno così anche Alessandro fa luce torno indietro torno indietro apro la macchina prendo la torcia chiudo si spegne la luce interna della macchina resto al buio e vedo due figure come due ombre nei pressi del portone del ponticello del portone principale del maniero ferme immobili dico perché ci sono due cascinari oltre il maniero quindi con dei contadini delle famiglie sono i vicini che hanno visto del movimento e sono venuti a controllare che sono poi gli stessi di quel signore di cui parlavo prima che ci ha raccontato ho dato per scontato quello però restavano immobili non si muovevano ok io ho un attimo rabbrividito perché anche se sono due persone ferme al buio come due ombre che ti guardano ti fissano tu un minimo di timore ce l'hai sono andato di corsa loro ho detto venite via perché qua secondo me ci sono i vicini che siamo tornati indietro e non c'era più nessuno io adesso non posso dirti se fossero realmente due persone se erano due ombre se erano giochi di luce non lo so il brivido ce l'ho avuto e non mi dispiace perché comunque l'ho provato sulla mia pelle ma effettivamente è stato impressionante ci credo dalle mie parti si dice meglio aver paura che toccarla certo assolutamente sì qualunque sia la ragione la sensazione è stata quella un'ultima cosa ma perché tra tutti i luoghi insomma l'Italia è anche un paese che ha diversi punti geografici interessati da storie di mistero Torino peraltro la zona lì è anche una grosso crocevia di alcuni dicono forze mediane che insomma poi coinvolgono vari ambiti però comunque interessata sulla mappa dal paranormale perché scegliere proprio il maniero della rotta di Moncaglieri? in questo caso diciamo che giocavamo in casa innanzitutto viene definito se non il luogo almeno uno dei pochi luoghi d'Italia più infestati ci sono e lo vedrete sempre dal documentario ma non sono documentati tutti il più alto numero di tipologie diverse di spettri dal cavaliere quello più famoso al cavaliere con la croce di cui sono stati ritrovati anche i resti del cavallo e frammenti di croce in metallo sul fossato davanti lo stesso fossato di cui si parlava prima il bambino che piangeva probabilmente il bambino che è morto è investito da una carrozza all'interno della corte ah un'altra cosa voglio precisare il maniero si trova in frazione la rotta Moncaglieri Torino non è un castello se cercate il maniero voi cercate un maniero e non un castello perché viene sempre definito castello della rotta ma non è un castello è un cascinale un semplice cascinale fortificato con un torrione centrale ok? perché è importante perché chi lo cerca poi cerca Merli Torri e quant'altro ma non troverà nulla del genere e quindi giocavamo in casa ed è il luogo più infestato d'Italia abbiamo detto è qui a due passi perché andare a cercare altrove non è mai stato fatto nulla sul maniero della rotta facciamolo noi certo un'ultimissima veloce risposta avete detto che non è abitato non è visitabile però dei padroni ce l'ha perché è una proprietà privata sì loro non si sono mai interessati a queste vicende adesso che è uscito il documentario non vi hanno contattato no in questo caso ne stanno alla larga per una ragione sì 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 assolutamente quello sì ormai è un posto in teoria abbandonato in verità l'hanno lasciato così allo sfascio completo ormai quindi quella rimarrà anche un ricordo questa cosa di quella se dovesse da un giorno all'altro crollare almeno uno lo può rivedere nel documentario come era prima benissimo allora io ricordo l'appuntamento domani sera quindi venerdì alle 23 e 30 qua su ETV grazie mille per essere stati con noi questa sera grazie a voi noi adesso ci dobbiamo separare per qualche istante di pubblicità ma con la seconda parte di angoli torniamo davvero tra pochissimo quindi restate con noi grazie a tutti grazie a tutti